Allora, veniamo proprio a questo tema, come farsi amare da un uomo, segreti pratici per conquistarlo. Allora, ci sono alcune cose che tu devi fare per conquistare un uomo, per farlo innamorare, che sono veramente, direi, fondamentali, che se non metti in atto non riuscirai assolutamente a conquistarlo per nessun motivo. Allora, ci sono alcune modalità, devi aumentare le tue capacità comunicative, perché devi comunicare attraverso il linguaggio verbale e non verbale il fatto di essere la donna giusta per lui. E questo è fondamentale, devi farti vedere come una donna di successo, una donna femminile, una donna ironica, una donna piacevole. Non essere assolutamente tartassante, non essere assolutamente una che insegue, non essere una rompicoglioni, perché se sei una rompicoglioni non fai innamorare nessuno. Devi essere anche precisa e decisa nel parlare. Devi avere un tono di voce variabile, cioè non essere monotona, perché le donne monotone risultano noiose. Devi evitare di lamentarti. Donna lamentosa, donna noiosa. Non funziona neanche quello. Devi avere una buona postura, una postura femminile. La tua postura, il tuo corpo deve esprimere femminilità. Questo è fondamentale. Essere femminile non vuol dire essere zoccolone, puttanone la corsa, ma avere una buona camminata. Una camminata femminile, saper usare i tacchi, le gonne, insomma. Avere tutte quelle modalità che manifestano femminilità. Devi evitare di avere chiusure, cioè posture chiuse, testa bassa, braccia conserte, imbronciata. Devi saper gestire l'e-contact. Saper gestire l'e-contact direi che è fondamentale, perché se non sai gestire l'e-contact non puoi ottenere nessun risultato. Devi guardare quindi negli occhi e saper utilizzare, diciamo, il contatto fisico. Oltre a avere una buona capacità di, come dire, saper gestire e amplificare le emozioni. Quindi sapere che le emozioni si trovano in aree esistenziali, che possono essere rapporti con la famiglia d'origine, rapporti con la famiglia acquisita, rapporti passionali sessuali, rapporti lavorativi nel successo, nel danaro, e rapporti, diciamo, con se stessi. E in ognuna di queste aree le persone possono vivere delle emozioni che diventano un, diciamo, un potente magnete. Perché se tu somministri quelle emozioni in quell'area precisa, coinvolgi. Questi magneti sono, diciamo, la paura dell'abbandono affettivo, la paura della disistima, di essere squalificati, il timore di essere giudicati negativamente, i sensi di colpo, la paura di essere rifiutati, la paura di essere svergognati, la paura di essere condizionati. E quindi l'abilità sta nel leggere, come dicevo prima, il linguaggio non verbale, che vuol dire sviluppare abilità comunicativa. Ho fatto tanti video dove spiego questo. E poi c'è un'altra capacità da non sottovalutare, che è quella di mantenere il distacco dal risultato. Soltanto le persone che sanno mantenere il giusto distacco dal risultato riescono a conquistare. Ecco, metti assieme tutto questo e vedrai che riuscirai a conquistare l'uomo che ti interessa, riuscirai a far innamorare l'uomo, riuscirai a far innamorare l'uomo che ti interessa. Il segreto è proprio quello. E poi, una volta che hai attratto, mettendo in atto queste metodologie, cioè avendo dato tutte queste emozioni nell'area giusta, beh, mantenendo il giusto distacco, quello che devi fare è semplicemente mettere dei vincoli. Mettere dei vincoli vuol dire mettere delle condizioni. Vuoi vedermi? Vieni sull'Everest, io sono sull'Everest. Se non vieni, fuori dai coglioni! E nel momento in cui lui accetta i vincoli, si innamorerà, perché questa è una legge, la legge dell'innamoramento si basa proprio sui vincoli che siamo in grado di mettere, che siamo in grado di porre. Ecco, queste sono le azioni che devi imparare a fare se vuoi conquistare, se vuoi far innamorare l'uomo che ti interessa. È molto importante fare questo perché è l'unico modo vero, reale, se è duro di conquistare, di far innamorare. Tutte le altre sono cose farlocche che non funzionano. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale YouTube Massimo Termasco, ma anche al mio nuovissimo canale. Esoterismo e spiritualità con Massimo Termasco e a tutti gli altri miei canali, crescita personale, felicità benessere, ammorto stima. E ovviamente, e beh, basta. E inoltre ti ricordo che sui canali ti puoi abbonare, tastino abbonati, vicino a tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci.